Ciao! Che freddo! Oggi va così Direzione Montemale Primo tornante Secondo tornante! Ciao a tutti! Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti! Grazie a tutti! Guarda un po'! Gira tutto! Gira tutto adesso! Vai 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 vai! Gira tutto eh! Non ti fermare! Boom! Dove vai? Ma ha le gomme! Boom! Ancora un po'! Vai ancora un po'! Vai ancora un po'! Vai ancora un po'! Eh sta diventando problematico stamattina! Vedremo! Partiti! Attenzione perché Claude ha già caldo! Non gli piace il sentiero! E che vuole farsi di QTSS Oggi mette il giaccone perché ha intenzione di dimagrire! Quindi sudore, fatica e alla fine ritorna sui passi! Siamo partiti! Siamo partiti! Direzione non si sa ancora! Crosette! Dicono! Amici di Busca! E questo è il panorama! Siamo partiti tardi perché noi aspettavamo la traccia di qualcuno! Altrimenti avrebbe aperto Elisa stamattina! Curnisauta! La compagnia di Claudio non si molla Si arriva direttamente in cima così Guarda che spettacolo! Uppetztare il nostro obiettale! Quattro immaginale! Uppetztare il nostro obiettale! I qui e! Certi. Amici di Piesco City! Quattro immaginale! Poi! C'è la parte! Grazie a tutti. Ciao. Angela, questo è per te. Che gamba. Come si caga a lui. Caga, ho paura perché inizia a scurirsi un po' e ho paura perché siamo solo in 6-7 e la discesa poi è pericolosa a una certa ora. Quindi abbiamo parlato a frontalino perché comunque Castelmagno è lontano. Ciao. 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 Ciao.